Un pomeriggio di fuoco, quello di ieri nella provincia messinese dove i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati fino a tardanotte su più fronti per domare le fiamme. A Spadafora, Barcellona, Pozzo di Gotto, Reitano e Tusa, ettari di macchia mediterranea divorata dal fuoco complice il forte vento di Scirocco. Scene apocalittiche che si ripropongono puntuali ogni volta che si alza il vento che spira dalla Siria. A Spadafora, ieri le frazioni di Grangiara e San Martino e poi località puntale nella zona di San Martino sono rimaste avvolte dalle fiamme e dal fumo fino a tardanotte. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Messina, Villa Franca Tirreno e Milazzo, la Guardia di Finanza, i carabinieri di Rometta e Spadafora, i volontari dell'Associazione Misericordia, vigili urbani e personale ANAS. Vigili del fuoco di Milazzo impegnati a domare nella notte anche un altro incendio nelle frazioni collinari di Migliardo e Gala e nella zona di Sant'Antonio a Barcellona, Pozzo di Gotto. Stesso scenario a Reitano, dove ieri un primo incendio era divampato in mattinata a Colonna sulla statale 113, nei pressi dell'imbocco per la frazione marinara di Villa Marge e subito domato. Nel pomeriggio un secondo rogo si è sviluppato sulle colline in direzione Mistretta e in contrada Giordano. Le fiamme si sono propagate verso sud, raggiungendo Reitano, circondando il centro abitato e lambendo le abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata, gli agenti del corpo forestale di Mistretta e i volontari della protezione civile, che non si sono mai fermati per arginare l'avanzare delle fiamme verso le case. Tanta la paura e famiglie pronte ad evacuare per diverse ore. Uno scoppio, forse una bombola di gas in un'abitazione di campagna, si è generato a 100 metri dalle squadre al lavoro questa mattina. Salvato anche un cane legato ad una corda all'interno di una baracca nelle campagne reitanese e liberato dai caschi rossi. Questa mattina sono arrivati due canadera a supporto delle squadre che operano a terra. L'incendio continua ad avanzare verso sud in direzione Santo Stefano di Camastra e a valle nella zona collinare sottostante Reitano. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Mistretta hanno presidiato la zona e bloccato il traffico veicolare sulla strada statale 117, mentre questa mattina è stato interdetto per un paio d'ore il passaggio sulla strada provinciale 176 che da Mistretta conduce a Pettineo e poi a Tusa. E proprio a Tusa ieri un altro rogo è scoppiato intorno alle 13 al chilometro 164 e 800 della statale 113 settentrionale Sicula. Sul posto i vigili del fuoco, il corpo forestale di Mistretta, carabinieri della stazione di Tusa e volontari del comune di Tusa. È stato necessario chiudere al transito la statale. Non è stato possibile per il momento individuare la causa dei roghi. Non è stato possibile per il momento individuare la stazione di Tusa e la stazione di Tusa e la stazione di Tusa e la stazione di Tusa.